Un investimento di 3 milioni e mezzo di euro che permette all'80% della popolazione del comune di Arezzo di avere accesso alla banda ultralarga. Lo ha realizzato Team a partire dal 2012, stendendo 82 km di fibra ottica che potranno essere utilizzati anche da altri operatori. Adesso è possibile avere accesso a internet con velocità fino a 30 o 50 mega, anche se nel giro di un paio di anni si arriverà a 100 mega. Per quanto riguarda la telefonia mobile invece è già disponibile il 4G Plus che consente velocità di navigazione fino a 225 mega. Tecnologie che permetteranno tra le altre cose di fruire di flussi streaming o film anche in qualità ultra HD o 3D, di utilizzare anche i giochi online più pesanti, di poter usufruire pienamente dei servizi cloud. Il futuro prevede che la fibra ottica che oggi abbiamo portato per fare questo tipo di rete fino agli armadi stradali, che sono quegli oggetti grigi, spesso col tettuccio rosso che si vedono per le strade, verrà progressivamente avvicinata verso i clienti fino ad arrivare direttamente in casa dei clienti. Quindi lo step finale sarà portare la fibra in casa dei clienti. Questo aprirà tutta una serie di servizi. Ovviamente la banda disponibile sarà a partire da 100 megabit in su. Attualmente sono coperti da fibra ottica tutti i quartieri del centro storico di Arezzo, le zone dell'Olmo, San Leo, Pescaiola, Via Vittorio Veneto, Via Roma e Ceciliano. Per quello che riguarda la città siamo sicuramente uno step più avanti poi di tanti altri. Questo è positivo sia per la ricaduta dei cittadini che per le aziende. Ovvio che come poi ho chiesto a loro è importante però anche che l'azienda guardi anche le periferie perché purtroppo oggi poco fuori dalla città abbiamo ancora grosse problematiche di connettività. Quindi mi hanno assicurato che lavoreranno per fornire comunque nelle periferie una buona connessione magari a DSL che però possa arrivare almeno a una 20 megabit.